PEGI 18 Tesoro, hai scelto il momento sbagliato per un drink. Qualcuno ha trasmesso un comunicato riguardo a un tesoro sepolto in Appalachia. Essendo tutti disperati, hanno deciso di tornare per prendersi una fetta di bottino. Dobbiamo sopportare quei cosiddetti coloni, cultisti, banditi sanguinari e tutto il resto. Ricorda, l'Appalachia appartiene a noi. Prima dobbiamo assicurarci che i nuovi arrivati non vengano infettati. Se queste persone diventano ardenti, moriremo tutti quanti. Ehi là, abitante del Vault. Ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Come se la caverà il nostro prossimo concorrente? Scopriamolo! Molto bene! Portiamolo via! Ci siamo tutti. Siete pronti a fare festa? Scopriamolo! Scopriamolo! Come on, everybody